Cari amici e amiche, ciao a tutti. Cominciamo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo di Maria, tua sposa. Bene, anche se la giornata volge al termine, ci tenevo a farvi gli auguri di Pasqua. Oggi è il 12 aprile 2020 e proprio davvero volevo cogliere questa occasione per augurarvi una buona Pasqua. Il Signore è risorto, è veramente risorto, alleluia. Cerchiamo davvero di vivere questa risurrezione, questo evento storico. Che è avvenuto tanto tempo fa, ma che al tempo stesso è così attuale. Perché Gesù risorto vuole entrare nel tuo cuore, nel mio cuore, per farti sentire potentemente tutto il suo amore e darti la vita, ma davvero la vita eterna. E noi però, siccome siamo liberi, a noi spetta accoglierlo, questo amore, a accogliere questa risurrezione, vi invito davvero a vivere questo giorno di Pasqua, anche se ormai, ripeto, volge al termine, ma vivere questo periodo pasquale proprio con questo Spirito. Cioè con lo Spirito di far entrare Gesù Cristo risorto sempre più potentemente nel tuo cuore, anche se non credi, anche se sei lontano dalla fede, anche se non frequenti la messa, anche se non sei abituato a pregare, non importa. Gesù è venuto sulla terra anche per te e vuole, è morto per i peccatori, per i peccatori, per noi tutti. Quindi non ti preoccupare, cerca di incontrarlo, perché noi siamo nati per questo. Il senso della nostra vita è quello, proprio di conoscere, amare e servire Dio. E se uno dovesse morire senza averlo conosciuto, non ha fatto altro che sprecare la vita. Qualsiasi successo abbia avuto in campo, non so, economico, scientifico, una vita buttata, praticamente. Perché noi siamo qua davvero proprio per conoscere Dio, accogliere il suo amore e ricambiarlo per quanto possiamo. Quindi davvero spero che questa Pasqua per tutti voi sia un'occasione per scoprire e riscoprire questo amore grande che Dio ha per noi. Come ci prepariamo in questo periodo? Noi cristiani siamo molto fortunati perché andiamo praticamente di festa in festa. Quindi adesso oggi è Pasqua, ce la godiamo, ma subito ci proiettiamo verso cosa? Innanzitutto verso domenica prossima, che è la festa della Divina Misericordia. Ci ho fatto un video sopra se volete guardatelo perché sarà dove spiego bene in cosa consiste questa festa. Dopodiché abbiamo l'ascensione che festeggeremo la domenica 24 maggio, ma soprattutto ci prepariamo in questi più o meno 50 giorni verso la Pentecoste. Sapete quanto io sia attaccato e affezionato allo Spirito Santo, sebbene ne sia un discepolo abbastanza indegno, ma il 31 maggio di quest'anno celebreremo la Pentecoste. Lo Spirito Santo discenderà davvero su di noi in questa Pentecoste con potenza. Quindi vi invito a prepararvi a questa festa meravigliosa dove davvero lo Spirito Santo, ripeto, scenderà con potenza per proprio rivoltarci proprio come un calzino. Vi invito davvero a prepararvi il più possibile, ad aprire completamente il vostro cuore allo Spirito Santo in modo tale che davvero possa fare il suo lavoro. Il 31 maggio è davvero darci una forza spirituale, soprattutto in questo periodo così difficile che adesso non sappiamo quando finirà e vedrete che dopo aver sperimentato il suo enorme potere rimarrete davvero meravigliati di tutto questo. Ora concludiamo con una preghiera allo Spirito Santo. Prima però vi ricordo di pregare per me, appunto lo Spirito Santo, io vi prometto di pregare anch'io per voi, per tutti i visualizzatori dei miei video. Se volete condividete questo video, iscrivetevi al canale, alla pagina Facebook, insomma, fate in modo che la fatica che faccio per fare questi video, ecco, possa essere, possa andare a beneficio proprio del maggior numero di persone possibile. E Dio certamente vi ringrazierà. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona i tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.